dai cazzo oh stai la eh dove? sono già stanto e vedi te sono stanto oh metti tutto un po' lì no sono troppo sotto fa niente non vale facettare le dita sulle cose no ma li dico che sei stante non è di uno dipenderà lì sull'angolo mettetela qua dite non ce la fai e qua e qua il quale come lui va sopra dico se devi giunto la devi sfruttare la scu il momento che te la mandi giù poi è che è bagnato eh ma lo facciamo stancare anche lui in zona però eh ma la fai tutto il giro eh uomo dalla vita eh oh ma la fai in culo va io l'ho fatto altre volte di fila eh ma nessuno è perso eh quasi di quasi sì ma lui fa palestra fa piatto ma fa palestra lui questa è una cagata no no è qua come dici te ma vedi ma almeno arriva un po' deconcentrato se no è troppo concentrato bene ah se scivola qua cheacchio fai il cavallo è una stupidata è una stupidata è una stupidata tata vai Fred vai Fred falla 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 vai te vai salti su giri dietro scendi dal sasso te salti su dal sasso scendi dal sasso gira e finita e qua l'entrata corto corto adesso lo prendo da qua così vedo la faccia qui c'è tutta una ruota non è difficile lui l'ha tenuta su ma lui c'è l'astrofizio ma lui c'è l'astrofizio ma lui c'è l'astrofizio ma lui c'è l'astrofizio qui c'è tutta una ruota qui l'ha messo a quinta ha fatto trippo dai su dai spampi no tu devi fare la zona non quella roba lì quella roba lì non la fai vai che c'è tutti gli stivali sporchi dai su dai 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 ma non ho ancora sentito il rumore esatto bravo dai almeno il rumore è uguale a tu questa qua è facile spampi fai andare a fanculo usa la sua che tempo è tutto su una ruota almeno non ti consuma quella davanti no scusami non ti appoggia quella davanti non ti la consuma la consumiamo ha saputo dove la metti la moto per me vanno a prendere il car di spanti minchia dai com'è quel detto c'è la mia donna ma la stava a moto una volta io ho provato ma la moto io mi ricordo una volta che sei tornato dal fiume qualcuno mi diceva che gliel'ha presa l'ha usata non mi ha buttato giù nel fiume perché è stato perché ero io facciamo cambi dai facci vedere te questa cosa ha fatto l'ho messa io oggi non faccio niente guardo te no non c'è verso è venuto solo per bere lui perché no perché ha visto la bottiglia è venuto solamente per far vedere che c'è il termignoni poi forse domenica prossima deve asciugare la guarnizione per quello che non la usa solo domenica prossima perché è sobriaco sabato sera esatto domenica prossima c'è la sociale domenica prossima bisogna vedere se torniamo da come torniamo con le foglie dipende a vedere quante foglie ma permetti qualcuno te l'ha toccata non dire che sono stato io come sempre però qualcosa hai messo su pirla si vede da qua pirla no prima prima una spostata non so è più vero quando gli dicevi strunz tu lo sai che se l'ha toccata da qua si vede ma no infatti non l'ha toccata si vede da qua si vede da qua che è messa su qualcosa pirla da qua lo vedo ma com'è adesso qualcosa lì lo butto infatti ho detto devo stare attento adesso qualcosa lì lo butto nel castore vai dentro a prenderlo dai sta bene è bellissima così le conne del cerbiato hop scusa ma gli altri devo in due sono là